Nel turbolento mondo della televisione italiana, una tempesta si è abbattuta sulla vita di Lorella Cuccarini, una donna poliedrica e talentuosa che ha saputo conquistare il cuore del pubblico con la sua versatilità in campo televisivo, musicale e teatrale. Tuttavia, il destino ha riservato a Lorella un capitolo drammatico, un racconto doloroso che inizia con una diagnosi devastante, cancro all'intestino al quarto stadio. Lorella Cuccarini, nata a Roma il 10 agosto 1965, è stata scoperta da Pippo Baudo, un mentore che ha plasmato la sua carriera fin dagli esordi. Nel 1985, ha debuttato come Sugar l'accanto a Baudo nei varietà del sabato sera di Rai 1, Fantastico 6 e Fantastico 7. Tuttavia, la sua vita professionale ha preso una svolta significativa quando è passata alla Fininvest, ora Mediaset, diventando la regina indiscussa della televisione commerciale. Il suo periodo d'oro è stato negli anni 80 e 90, quando ha formato un sodalizio vincente con Marco Columbro, conducendo programmi di successo come Paperissima e Buona Domenica. Nel 1993, insieme a Pippo Baudo, ha anche condotto il prestigioso Festival di Sanremo. Oltre al successo televisivo, Lorella ha intrapreso una carriera musicale, diventando testimonial di una maratona televisiva a scopi benefici e interpretando sigle dei programmi da lei condotti. Nel corso degli anni, Lorella Cuccarini ha ampliato il suo repertorio artistico, calcando le scene teatrali con successo in diversi musicali e spettacoli. Tuttavia, la sua vita personale è stata segnata da un divorzio e dalla recente diagnosi di cancro, un nemico invisibile che ha colpito il suo intestino al quarto stadio. Nella sua biografia, Lorella è sempre stata associata allo slogan La più amata dagli italiani, una frase tratta da una serie di spot per l'azienda di Cucine Scavolini. Nel 2011, il riconoscimento ufficiale è arrivato con il titolo di commendatore della Repubblica. La vita di Lorella Cuccarini è stata intervallata da momenti di dolore e sfide personali. I genitori si separarono quando lei aveva solo 10 anni, instaurando un rapporto limitato con il padre. Nel 1991, ha unito la sua vita a quella di Silvio Capitta, noto produttore discografico e televisivo, con cui ha avuto quattro figli. La sua carriera artistica è iniziata precocemente nell'ambito della danza, muovendo i primi passi nella scuola di ballo di Enzo Paolo Turchi. La sua prima apparizione televisiva risale al 1978, a soli 12 anni, in un varietà del sabato sera condotto da Raffaella Carrià. Da qui ha proseguito la sua gavetta, diventando una delle ballerine di fila che hanno accompagnato Heather Parisi nelle sue tournée. Il vero trampolino di lancio è stato il suo incontro con Pippo Baudo, che l'ha scelta tra le ballerine di fila per diventare una showgirl di spicco. Il successo è stato immediato con Fantastico 6 e Fantastico 7, culminando nella celebre sigla Sugar Sugar. Il suo passaggio alla fine in vista ha consolidato la sua fama, conducendo audience di Antonio Ricci e partecipando a successi come La Notte Vola. La sua carriera musicale è decollata con il disco Desordio L'Oreal nel 1986 e la ITU Ballerò nel 1987. Nel 1988, ha iniziato la sua collaborazione con Antonio Ricci, conducendo audience e contribuendo alla sigla La Notte Vola, divenuta un'icona della musica italiana. La rivalità artistica con Heather Parisi è stata evidente, culminando nel 1988 con la pubblicazione della raccolta Heather e L'Oreal. Nel 1989, L'Oreal è stata premiata con lo SCAR TV come personaggio televisivo femminile dell'anno. Nel 1991, L'Oreal Cuccarini ha unito la sua vita a quella di Silvio Capitta, con il quale ha condiviso il percorso professionale e personale. Nel 1994, ha conseguito la maturità linguistica da privatista. La sua carriera ha continuato a fiorire, spaziando dalla televisione al teatro e alla musica. Tuttavia, il destino ha riservato a L'Oreal un capitolo oscuro e doloroso. Nel 2023, è stata diagnosticata con un cancro all'intestino al quarto stadio, segnando l'inizio di una lotta titanica contro la malattia. Il periodo recente della vita di L'Oreal Cuccarini è stato segnato dalla sofferenza fisica e psicologica. La malattia ha messo a dura prova la sua forza interiore e la sua resilienza. La sua lotta contro il cancro è stata un'epopea, un viaggio doloroso scandito da momenti di speranza e disperazione. Prima della sua morte, avvenuta in L'Oreal, data da inserire, L'Oreal ha affrontato la malattia con coraggio e dignità. Il suo spirito indomito ha ispirato coloro che l'hanno conosciuta e ammirata nel corso degli anni. Il funerale di L'Oreal Cuccarini è stato un commosso addio alla donna che ha segnato un'era nell'intrattenimento italiano. Amici, colleghi e fan si sono riuniti per tributare l'ultimo saluto a questa icona della televisione. Il suo corpo è stato sepolto con onori e omaggi, mentre il suo ricordo continua a vivere nei cuori di coloro che hanno condiviso con lei il palcoscenico della vita. Il titolo di commendatore della Repubblica è stato l'ultimo riconoscimento ufficiale per una carriera straordinaria, ma il suo vero premio è stato l'amore e l'ammirazione del pubblico che l'ha seguita per decenni. Con la scomparsa di L'Oreal Cuccarini, l'intrattenimento italiano ha perso una stella sì, in effetti. La scomparsa di L'Oreal Cuccarini rappresenta una perdita significativa per il mondo dell'intrattenimento italiano. La sua presenza vibrante, il talento poliedrico e la capacità di connettersi con il pubblico hanno reso L'Oreal un'icona amata e rispettata. La sua carriera luminosa ha attraversato decenni, segnando momenti indimenticabili nella storia della televisione, della musica e del teatro in Italia. La sua assenza sarà profondamente sentita da coloro che hanno ammirato il suo lavoro e hanno condiviso con lei le gioie e le sfide dell'intrattenimento. La sua eredità vivrà attraverso il ricordo affettuoso dei fan nell'impatto duraturo che ha avuto sull'industria dell'intrattenimento italiano. La faccia a faccia con un bottone è un'impresa non da poco. Oltre a questo, essendo una fobia ancora abbastanza sconosciuta, non tutti gli psichiatri sono in grado di trattarla efficacemente. Per questa ragione rimane una delle fobie più terribili del genere umano. Numero 3 La geniofobia può essere un male incredibilmente debilitante. La persona che ne soffre è portata ad evitare qualsiasi contatto sociale e, nei casi più gravi, la sua stessa immagine allo specchio. Di cosa si tratta? La geniofobia è la paura del mento. Nei casi più frequenti, il geniofobico cercherà di evitare il contatto con il proprio mento o quello degli altri. Nei casi più gravi, eviterà addirittura di vederlo. Immaginati di soffrire questa fobia. La probabilità di entrare in contatto visivo con un mento è così alta che neppure rifugiandoti all'interno di una stanza in completa solitudine saresti a salvo. Basterebbe un semplice specchio, una foto o un video in internet dove appare il viso di una persona e la tua fobia si scatenerebbe. La terapia è lunghissima, complessa e difficile, soprattutto per il fatto che il paziente deve vedere il volto del dottore che inevitabilmente include un mento. L'assurdità di questo male è tale che può apparire quasi comico. In verità, di comico non ha proprio nulla. Numero 2 Il posto numero 2 di questa classifica raggiunge un livello di assurdità tale che la maggior parte di voi stenterà a credere che sia reale. In verità, la anatidefobia esiste ed è un male che colpisce un buon numero di persone in tutto il mondo. Per farlo a breve, la persona che soffre di anatidefobia ha paura che la osservi un'anatra. In questo momento è probabile che ti sia scappata una risata e devo ammettere che nel creare il testo di questo posto della classifica neppure io ho potuto contenerla. Tuttavia, una fobia è sempre terribile per chi la soffre e merita un certo rispetto. L'anatidefobico prova un'ansia fortissima nel momento in cui si trova di fronte ad un'anatra, proprio per paura chi lo possa osservare. Nei casi più gravi, la sensazione è sgradevole e non si limita all'ansia, ma ad un vero e proprio terrore. C'è da dire che è una fobia più facile a controllare rispetto alle altre, ma sicuramente una delle più illogiche ed irrazionali conosciute fino ad adesso. Numero 1 Il top di questa classifica lo dedico ad una delle fobie più strane che si conoscano. Il nome uranofobia potrebbe far pensare alla paura del pianeta urano o qualcosa di simile. In verità non ha nulla a che fare con lo stesso. Ne sono vittime pochissime persone, ma di sicuro quelle poche vivono un'inquietudine che raggiunge un livello molto profondo nella loro esistenza. In breve, la uranofobia è la paura del paradiso. Questo male è molto complesso e si classifica in due varianti. La prima è la paura di doversi confrontare con Dio e di non essere meritevoli di accedere al paradiso. La seconda è maggiormente correlata alla paura di morire. Chi soffre di questa fobia prova un vero e proprio terrore al solo menzionare il tema.